Questa mattina, nonostante il maltempo che è imperversa su tutta la nostra regione, Raffaele Vrenna, presidente di RVL Group, ha donato tre respiratori polmonari all'ospedale di Crotone grazie alla collaborazione con il dottor Mauro, il dottor Tucci, il geometra Lumare, il direttore sanitario del nosocomio cittadino, il dottor Cosentino. La donazione nasce dalla consapevolezza della situazione di emergenza sanitaria per il Covid-19. Raffaele Vrenna ha voluto esprimere la propria solidarietà e vicinanza al personale medico e infermieristico che operano al San Giovanni di Dio e sono i testimoni della sofferenza per i pazienti ricoverati. Solidarietà anche ai cittadini che di fronte a questa emergenza del coronavirus sono preoccupati per il proprio stato di salute, dei propri cari, in particolare degli anziani. Raffaele Vrenna ha voluto dare un segnale di amore e rispetto per questa città in crisi. Restiamo a casa, usciamo da casa solo per le urgenze. Sono sicuro, scrive il presidente Vrenna, che usciremo da questa emergenza.